signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale questa stagione la stiamo dedicando alla pratica del masteraggio e alla pratica della scrittura delle quest abbiamo già visto la struttura in tre atti abbiamo visto la struttura degli eventi abbiamo cominciato a parlare di come implementare alcuni aspetti pratici e con l'inizio del prossimo anno inizieremo a vedere proprio le cose nello specifico prima però bisogna fermarci un attimo per parlare di uno degli aspetti fondamentali del tipo di narrazione nel gioco di ruolo che la fa differire da qualunque altro tipo di narrazione esiste una grossa differenza tra una quest ben riuscita e una semplice serie di eventi scritta su un foglio prima di cominciare però una comunicazione di servizio la prossima settimana come praticamente tutti gli anni sarò ai luca comics mercoledì 30 giovedì 31 e poi la mattina di venerdì 1 se come l'anno scorso vogliamo provare a organizzare per incontrarci se qualcuno farebbe piacere a me farebbe piacere incontrare alcuni di voi sto organizzando la cosa via facebook l'anno scorso ero stati dei problemi quindi quest'anno voglio fare le cose un attimo diversamente comunque se siete interessati contattatemi su facebook chiedetemi voi l'amicizia l'account lo trovate nei contatti qua sotto vediamo di riuscire a organizzarci e vediamo se riuscirò anche quest'anno a fare il video in tempo dovrò rimandarlo di una settimana comunque detto questo torniamo a noi come stavo dicendo questa settimana andiamo a parlare di un aspetto fondamentale della narrativa del gioco di ruolo che è quello comunemente chiamato la narrativa emergente e vi avviso questo video ha seriamente rischiato di trasformarsi in un rant quando si parla di narrativa emergente ci si riferisce a quel processo in base a cui una serie di elementi casuali o comunque slegati tra loro vengono raggruppati per trovare un ordine logico e per fondamentalmente creare una storia che neanche chi sta raccontando sa come andrà a finire è un processo di narrazione tipico del gioco di ruolo anche se negli ultimi anni ho visto che sta venendo implementato anche in qualche forma di videogiochi però diciamo che lì è ancora alle basi nel gioco di ruolo invece è l'aspetto preponderante del tipo di narrazione che andrete ad affrontare quando mastererete una sessione in realtà è un processo che chiunque abbia giocato anche una sola volta nella sua vita un gioco di ruolo ha visto accadere anche se forse sul momento non gli sono state chiare quale siano le sue reali implicazioni e ovviamente non poteva conoscere il termine tecnico per gli altri può sembrare qualcosa di banale e ovvio che una sessione di gioco di ruolo viene raccontata da varie persone è meglio però fermarsi un attimo a riflettere e fare un riassunto per capire bene che cos'è questo tipo di narrazione per essere certi che sia il master che i giocatori sappiano esattamente di cosa si sta parlando prendiamoci la calma e rivediamo il processo della narrazione dal suo inizio alla fine diciamo che il master ha preparato il suo dungeon inserendo una serie di stanze alcune con mostri alcune con trabocchetti e una con un boss finale una situazione tipica che chi è abbastanza all'interno del gioco di ruolo probabilmente ha già affrontato dozzine se non centinaia di volte e anche chi non ha mai giocato il ruolo probabilmente è quello che si immagina quando pensa al gioco di ruolo in una delle stanze il master ha deciso di inserire tre nemici presupponendo che questi possano essere un incontro relativamente interessante per il suo gruppo di gioco fin qui nulla di eclatante la situazione la conoscete vi ci sarete trovati già dentro dozzine di volte molto probabilmente il master in una situazione del genere ha pensato che questi tre mostri sia un incontro relativamente facile i giocatori se ne sbarazzaranno in fretta e procederanno oltre con il dungeon ovviamente però il master può prevedere che lì ci sia un combattimento ma non può sapere come si svolgerà il combattimento e per quanto possa essere probabile che vincano i giocatori in realtà neanche questo è assicurato una volta iniziato il combattimento i giocatori potrebbero decidere di ingaggiare in mischia i vari mostri o al contrario potrebbero tenersi in distanza e cercare di eliminarli con delle armi da tiro il master non può neanche sapere quali saranno i movimenti che i singoli giocatori sceglieranno di fare e di conseguenza non può neanche sapere come i suoi mostri risponeranno a quei movimenti fino a quando i giocatori non li avranno dichiarati un tiro di dado fortunato potrebbe permettere ai giocatori di eliminare i mostri molto facilmente o al contrario una serie di tiri sfortunati potrebbe metterli in crisi e costringerli a ritirarsi per quanto il master possa fare delle previsioni su quello che succederà in quest e i giocatori abbiano le loro aspettative su quello che i loro personaggi potranno non potranno fare in realtà nessuno sa come si svolgerà la storia e come va a finire fino a quando non avrete finito di raccontarla questo potrebbe diventare il glorioso racconto di come gli avventurieri hanno spazzato via i loro avversari come potrebbe diventare la tragica storia della sconfitta e gli avventurieri e la loro disperata ritirata per fuggire dal dungeon e ovviamente dall'esito di questa scena dipenderanno poi tutte le scene successive se gli avventurieri sconfiggono facilmente i mostri potrebbero ritenere che il dungeon sia facile e quindi avanzare in maniera più balzanzosa e spergiudicata al contrario se devono ritirarsi dovranno tornare indietro magari andare a riequipaggiarsi e cercheranno di acquisire nuove armi perché pensano che lo scontro sarà particolarmente duro tutto questo dal punto di vista della meccanica del gioco ma anche dal punto di vista proprio della narrazione vera e propria ci saranno delle forti conseguenze sia per i png che per i pg uno dei giocatori sconfitti potrebbe decidere che il suo personaggio è rimasto traumatizzato alla cosa e adesso ha una paura irrazionale di quel tipo di mostri e il boss del dungeon potrebbe essersi convinto che in realtà gli avventurieri non sono così pericolosi e quindi passerà all'offensiva mandando i suoi mostri a razziare villaggi circostanti tutto questo derivato dall'esito di magari un singolo tiro di dado porta a deviare la quest in due direzioni totalmente diverse questo è proprio quello di cui parlavo quando dicevo che la narrativa emergente è l'aspetto fondamentale della narrazione nel gioco di ruolo ed è anche l'aspetto che rende il gioco di ruolo qualcosa di così appassionante di così divertente nessuno al tavolo è mal certo di quello che sta per succedere e tutto in realtà è improvvisato dall'inizio alla fine ovviamente un master che conosce il suo mestiere dovrebbe essere sempre pronto a prendere qualunque elemento imprevisto comunque che venga generato alla narrazione e che i giocatori per qualche motivo trovino interessante divertente o che comunque dimostrino ad apprezzare e incorporarlo nella narrativa per procedere avanti col racconto e al contrario qualunque elemento non sembra essere interessante per i giocatori non sembra generare nuova narrativa dovrebbe essere accantonato e tolto alla storia il mostro che il master aveva previsto venisse sconfitto molto velocemente potrebbe in realtà rivelarsi molto più ostico e il master potrebbe decidere di farlo diventare un nemico ricorrente all'interno della campagna o al contrario quello che doveva essere il mega boss finale viene sconfitto con due schiaffi e il master decide di fare in modo che noi in realtà non era lui il boss finale boss finale era un altro quello era solo un servitore la storia la sapete i giocatori trovano una soluzione al mistero proposto al master che è molto meglio di quella che il master stesso aveva previsto e il master farà in modo di cambiare la storia in modo che siano stati i giocatori ad avere ragione e la soluzione della loro proposta è quella corretta fin dall'inizio magari per qualche motivo i personaggi si affezionano particolarmente a un particolare png o i giocatori si affezionano particolarmente a un png che però il master aveva pensato come una mera comparsata qualcosa di minore e a quel punto il master lo svilupperà molto di più e lo renderà molto più importante all'interno della storia mentre un altro png che in realtà era stato previsto per essere importante non sembra stare simpatico al party non sono interessati quindi il master lo accantonerà perché evidentemente non è un buon spunto per incrementare la narrazione l'aspetto fondamentale che però tutti devono tenere a mente che questo proprio questo è il modo in cui si svolge la narrazione all'interno di un gioco di ruolo ho spesso sentito dei master lamentarsi del fatto di non riuscire a controllare del tutto la narrazione del racconto come se si aspettassero che una quest in un gioco di ruolo poteste svolgersi esattamente nel modo in cui loro avevano pensato con le scene che si susseguono esattamente nel modo in cui loro le avevano previste e allo stesso modo dei giocatori lamentarsi del fatto che loro si aspettavano che i loro personaggi potessero fare questo e quello ma poi nella realtà non ci sono riusciti e quindi lo prendono come un problema del personaggio una mancanza di bravoa da parte loro o una mancanza da parte del master che avrebbe dovuto fare chissà che cosa no signori mi dispiace il gioco di ruolo funziona proprio così anzi se andate a vedere il panorama dei giochi new gen i giochi forgiti esistono molti regolamenti che sono stati pensati proprio per incrementare ancora di più questo genere di situazioni e anche nel panorama old school esistono intere campagne concepite unicamente come sandbox che mancano totalmente di una linea narrativa principale e tutta la narrazione in pratica è a carico della pura interazione tra i giocatori e il master per cui la storia è letteralmente casuale e i giocatori e master devono decidere sul momento come si svilupperanno le cose e quali saranno le decisioni dei personaggi senza che ci sia neanche un finale ipotizzato da parte del master questa è una delle cose essenziali nel gioco di ruolo non sarebbe gioco di ruolo se non ci fosse narrazione emergente se per qualche motivo la cosa vi disturba e pensate che le cose debbano svogliersi esattamente come voi le avete pensate non giocate di ruolo datevi ai romanzi scrivete romanzi le storie che si svolgono esattamente come la pensate trovatore sono i romanzi sono i film non sono i giochi di ruolo diciamo che è meglio che interrompa il video qui prima di degenerare in un rant che dura in mezz'ora mi che sono stato anche fin troppo lungo coi tempi la settimana prossima se riesco a montarlo in tempo come dicevo all'inizio ci sarà il video speciale sui lucca comics e la settimana dopo torneremo a parlare di questo argomento o già la settimana prossima se non sono riuscito a montare il video sui lucca in tempo andando a parlare di un aspetto particolare della narrazione emergente e ritornerà anche una vecchia conoscenza questo lo faccio per mettervi hype perché un buon master deve sempre lasciare un cliffhanger finale detto questo naturalmente fatemi sapere voi cosa ne pensate quali sono i momenti in cui a voi è successo proprio che la narrazione emerga spontanea e che vi ricordate quali sono le volte in cui avete dovuto inserire elementi o togliere elementi perché la storia funzionasse come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate il tasto della campanella se volete che vi arrivino le notifiche dei nuovi video io sono il master k e ci vediamo al prossimo video